Le consultazioni pubbliche sono degli strumenti di democrazia partecipativa, quindi coloro che contribuiranno compilando il questionario faranno qualcosa che poi verrà utilizzato per proporre soluzioni concrete. Codice della strada, ancora troppi morti, troppi incidenti, 3.500 morti l'anno, 250.000 feriti l'anno, il miglioramento si è fermato, non raggiungeremo gli obiettivi 2020. Bisogna fare qualcosa di urgente, aumentare la sicurezza non solo dei mezzi, non solo delle strade, ma stare più attenti a delle pratiche di buon andamento e di corretto uso dei mezzi di trasposto, per esempio la precedenza, il divieto di precedenza non è più rispettato, la distanza di sicurezza non è più rispettata, bisogna fare qualcosa urgentemente. 65 domande, ci vogliono 5 minuti sul sito del CNEL www.cnel.it, è qualcosa di utile soprattutto per i nostri ragazzi.